Oggi non so veramente da dove iniziare. Da dove posso iniziare? Abbiamo regalato 80 minuti al Cagliari, che ha giocato, ha strameritato di vincere, non mi sembra che questa cosa sia in discussione. Una squadra come l'Inter, che non lotta per lo scudetto, ma che lotta per arrivare in Champions League il prossimo anno, non può permettersi di presentarsi a Cagliari e regalare 85 minuti di partita e pensare di andare tutti all'attacco a 5 minuti dalla fine e pensare di pareggiarla. E' veramente un atteggiamento che non mi spiego. A Firenze l'Inter mi era piaciuta. Stasera le occasioni che abbiamo creato sono arrivate praticamente tutte da cross, o comunque Lautaro si è sbattuto in mezzo all'area di rigore e ha cercato di fare qualcosa. L'ultima occasione di Candreva, sempre un cross. Ma così dove vogliamo andare? Dove crediamo di andare così? Giocando così, domani siamo più due sul Milan, domani il Milan se vince ci ha sorpassato, c'è il derby di Lazio-Roma. Se andiamo avanti così la Champions l'anno prossimo innanzitutto ce la scordiamo, perché giocando così non si arriva neanche quarti. Oggi posso salvare la difesa scandalosa, a partire da D'Ambrosio, a partire da Zamoa. Non mi è piaciuto neanche Skriniar oggi. Devrai, insomma... Difesa uno schifo. Vessino? Vessino. Come fa Vessino? Come fa Vessino a giocare nell'Inter? Ragazzi, va bene che l'ha ripresa Vessino. Va bene che l'ha ripresa Vessino. Però se veramente pensiamo che con Vessino tutti gli anni si può mantenere una posizione Champions, Vessino ragazzi. Brozovic oggi inconsistente, non ha fatto niente. Salvo soltanto, un pochino, salvo Perisic, che comunque sulla fascia ha sempre cercato di sbattersi, ha sempre spinto. Salvo Nainggolan, migliore di tutti, Nainggolan insieme a Lautaro Martinez. Insieme a Lautaro Martinez, che Andreva ci ha provato nel finale, ma quella punizione che ha sparato nella curva del Cagliar. Ci sono tutti i saltatori in area di rigore. Tu cosa fai? Da 45 metri ti rimporta. A 10 minuti dalla fine. E va bene. Spalletti, se pensa di continuare a mettere Ranocchia... Vabbè, ovviamente non ha alternative. Se pensa di continuare a mettere Ranocchia negli ultimi 10 minuti e pensare di pareggiarla solo perché Ranocchia è alto 2 metri, capite bene che è così. Passiamo... Allora, tralasciando il fatto che l'Inter oggi ha fatto schifo, schifo al cazzo, schifo alla vergogna, e si dovrebbero vergognare per come hanno giocato. Vogliamo parlare anche oggi della... Vogliamo parlare anche oggi dell'arbitro? Parliamo dell'arbitro. Minuto... Nei primi 10 minuti ha munito giustamente Cigarini. Due minuti dopo fa un fallo dove Lainggolan è lanciato verso l'area avversaria che sta puntando la linea difensiva. Cosa fa? E vabbè, si guarda in giro come per dire sono passati 10 minuti, non è che gli posso dare due gialli. No, vabbè, ma ovviamente, non si preoccupi arbitro. Vogliamo parlare dell'1-0? Parliamo dell'1-0. L'1-0 nasce da una punizione che l'arbitro si è inventato. Cioè, Scrinia ha palesemente preso la palla. È normale che poi dopo, in allungo, prendi anche il difensore avversario. È normalissimo che dopo prendi anche il difensore avversario, ma non puoi dire che quello è fallo. Cioè, sei un malato mentale. Il rigore chiesto dal Cagliari sul fallo di mano a Samoa è veramente imbarazzante, perché lì si vede benissimo. Pavoletti la prende di testa, gli carambola sul braccio, dopodiché la palla va a sbattere su a Samoa. Ma dopo il doppio rimpallo è chiaramente involontaria la mano di a Samoa. Abbiamo parlato dell'arbitro. Vogliamo parlare del signor... Inizia per M il nome, inizia per il cognome, al numero 9 sulla maglietta, ex capitano. Vogliamo parlare? Parliamo di Icardi. Icardi. Invece di fare l'uomo social, le letterine a Babbo Natale, le letterine a sto cazzo, invece di scrivere con l'interamo, l'inter di qua e di là, devi scendere in campo e dimostrare quello che scrivi. Perché fino adesso non stai dimostrando quello che dici. Perché un vero capitano, come dici tu, prende in mano la situazione, prende in mano lo spogliatoio e dice Ragazzi, ci sono stati dei problemi, risolviamo questi problemi e portiamo questa stagione a termine. Poi a giugno è un altro discorso, ma la stagione va salvata. L'inter non può permettersi di restare fuori dalla Champions League. Adesso, giovedì, abbiamo l'Eintracht-Francoforte, dobbiamo andare in Germania a giocare. Con questo, se noi abbiamo... Allora, già facciamo schifo a livello di gioco, che è veramente un gioco inguardabile. Se poi ci creiamo dei problemi extra campo, come è il caso Icardi, di cui Spalletti giustamente non ne vuole più parlare per non dare alito a polemiche, Icardi, devi prendere in mano la situazione e dire Va bene, abbiamo questo problema, cerchiamo di risolverlo, però adesso, già da domenica, torno in campo con la Spall, torno in campo con la Spall e faccio l'uomo con le palle. Quello che tu hai scritto sul post di Instagram lo devi dimostrare sul campo, le parole, al vento. Non ci devi dimostrare a noi come essere interisti. Noi lo sappiamo cosa vuol dire essere interisti, non ci devi essere tu a spiegarlo a noi. Quindi, chiarito questo punto, adesso, domani, il Milan gioca con il Sassuolo. Non penso che il Milan si lascerà sfuggire l'occasione di poterci superare. Siamo stati dei polli, ci siamo fatti mangiare, adesso mi pare che da Natale eravamo a più 8, ci siamo fatti mangiare 6 punti fino ad ora, adesso se il Milan domani vince ci sorpassa. Domenica prossima noi giochiamo in casa con la Spall, dopo di che ci sarà il derby, lì si deciderà tutto. Io spero vivamente di vedere il Mauro Riccardi, allora, come giocatore, non l'ho mai criticato, io lo critico come uomo. Lui deve scendere in campo e tirare fuori i coglioni, deve tirare fuori i coglioni, e portarci in Champions League. Poi a giugno, se la società e lui si troveranno in disaccordo per quanto riguarda la questione del rinnovo, che sono molto distanti, lui chiede 10, la società offre 6 e mezzo, è normale che sono lontani, ma portiamo, arriviamo a giugno in pace, poi a giugno, se non si riesce a trovare un accordo, i Cardi, la prima offerta che ti arriva puoi tranquillamente andartene, però non ci puoi rovinare la stagione adesso e continuare a creare polemiche tu e tua moglie, perché io non sono convinto che è solo tua moglie, sei anche tu che sei un rompicoglioni sotto questo aspetto. Quindi, vediamo in settimana, cerchiamo di risolvere questa questione, andiamo a Francoforte che dobbiamo andare a vincere, dobbiamo andare a vincere a Francoforte per cambiare un po' il vento, perché adesso sta girando dalla parte opposta in cui dovrebbe andare. Vinciamo a Francoforte, domenica ti vorrei rivedere in campo con la spalla. Fai l'uomo, risolvi questa cazzo di situazione, torniamo a vincere, torniamo a essere l'Inter, perché io mi sono veramente rotti i coglioni di fare questa figura di merda. L'Inter non può tutti i santissimi anni perdere punti con il Parma, perdere punti con il Bologna, perdere punti con il Cagliari, perdere punti con il Sassuolo, il Sassuolo, il Sassuolo, il Sassuolo maledetto finirà in Serie B, il Chievo, tutte queste squadre. L'Inter, queste partite qua, deve entrare in campo e mangiarseli gli avversari. Non è che mi vai a fare 0-1 col Bologna che non vinceva da settembre, mi vai a fare 0-1 con il Parma, venuto dalla Serie D il Parma, mi vai a fare 0-0 con il Sassuolo, 1-1 il 93 con il Chievo. Io mi sono veramente rotto il cazzo, vedete tutti ritirare fuori i coglioni e andiamoci a prendere questo posto in Champions League, perché veramente avevamo un vantaggio di più 8 sul quarto posto, più 8, e più 9 sul quinto posto. Adesso, se la Roma e il Milan domani vincono, siamo alla pari della Roma e il Milan ci sorpassa e va in terzo in classifica. Vedete un po' voi se dobbiamo andare avanti così. Io sinceramente non riesco neanche più a incazzarmi esageratamente, sono deluso e amareggiato, quindi non so più cosa dirvi. Vedete di sistemare questa situazione del rinnovo, perché mi sono rotto il cazzo, Icardi mi ha rotto il cazzo, devi entrare in campo e dimostrare il giocatore forte che sei, perché io lo so che tu sei forte e devi dimostrarlo a tutti. Detto questo, forza Inter, iscriviti al canale e niente, ci sentiamo giovedì per il video contro l'Aintac, speriamo il Sassuolo domani fermi il Milan e poi ci gustiamo il derby di Roma. Vabbè, forza Inter, iscriviti al canale, lascio sotto Instagram di nrnerazzurro1908, ci vediamo giovedì per Eintracht-Francoforte-Inter. Ciao a tutti! Ciao a tutti!